E va giù, faccio il letto di partenza, allora, Brambilla, ma qui sono Brambilla, che prende il comando, loro il podio a tutti i corti, insieme a Simone Pellegrini, perché a Fagli Ruschava, aveva già fatto il rasco, che si mette in seconda, anche in torta, e una tripletta, una tripletta, dell'un giate con Masso, e allora andiamo a vedere il podio, con Brambilla, Pellegrini, e poi ancora, con Molineri, la caduta, il paese dietro, e retrovie, proprio giuro, dei due ruggiatesi, Brambilla, 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 in seconda, con due ore sette, abbiamo Pellegrini, e poi con 500 due, mandatemi del basato al podio.